Buonasera Di Maio Prima di tutto Con orgoglio Che con la cancellazione e la prescrizione Lancio ai cittadini questo hashtag Hashtag si dice Basta impuniti Sarebbe hashtag Poi guardi che ha fatto la M Che sembra una N rovesciata In retta infatti gliel'hanno fatto notare tutti Sì perché noi nel momento 5 stelle Prima di tutto non ci facciamo dettare l'alfabeto Dai burocrati dell'Europa Per cui io faccio la M come la N rovesciata La L come la S rovesciata La D come la V rovesciata E la O come la O rovesciata La O non si rovescia Per cui quando scrivo ad esempio la parola leader Sì Viene fuori la parola Salvini Ma quello è Premonitore quasi si direbbe Comunque Comunque la cosa importante È che adesso la prescrizione non c'è più Finita, sparita, disintegrata No 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 scusi calmo calmo La prescrizione ancora c'è Sì non rida C'è ancora la prescrizione Ancora c'è? Eh sì Eh sì sì Ho scritto hashtag Eh lo so che ha scritto l'hashtag ma Ho messo pure su Facebook Sì Facebook Twitter Instagram Tutti gli accenti E un video su Youtube Ecco sì va bene Ma per cancellare la prescrizione Non basta mica fare un hashtag Allora prima di tutto Non è un evento 5 stelle Sì Per noi gli hashtag sono leggi E le leggi sono hashtag No guardi che però non funziona così Infatti la prescrizione verrà cancellata ma a partire dal 2020 2020 sì Sì Ma di mattina presto Quindi quasi 2019 Ma cosa sta dicendo? Non esiste Quando un anno è appena finito un altro anno sta per cominciare Poco poco piano piano come piace a noi Ma cosa fa? Ma non faccia Marzullo scusi eh Allora Non facciamo Marzullo Noi del momento Prima di tutto Noi del momento Sì 5 Marzulli Sì ma non esiste Prima di tutto Quando decidiamo di portare a casa un risultato Noi prima condoniamo la casa Ecco E poi ci portiamo il risultato Sì però invece pare che il risultato lo ottenga sempre la Lega No? Legittima difesa, decreto sicurezza Salvini infatti vola nei sondaggi Allora prima di tutto Sì prima di tutto In questo Salvini che vola Non c'è la prova fotografica No ma A differenza del sottoscritto che quando vola Ma sembra una foto col biglietto in seconda classe Va bene Come l'altro giorno che sono andato in Cina Esatto A vendere a lancia il presidente Ping Ma no ma che Ping Pong Ma no ma che Pong King Kong Ma che King Kong Ping Dong Tom Tom Ching Ching Alla salute Alla salute Si fermi lì un attimo Si fermi Allora Il presidente cinese Si chiama Xi Jinping Allora prima di tutto Allora prima di tutto Non è il movimento 5 Ping Il presidente cinese Xing Xing A differenza dei altri presidenti Plim Plim Che ci hanno preceduto Abbiamo portato a casa Un accordo commerciale Senza preceduti Precedenti Che prevede la vendita di arance Dalla Sicilia A chilometro 8000 a 0 Con il viaggio dalle arance Naturalmente Senza con la classe Perché a differenza Dalle arance che ci hanno preceduto Le nostre arance Non hanno privilegi Ma quali privilegi Non si capisce niente Naturalmente L'accordo entra in vigore A partire da 2048 Giorno più Giorno meno Più più Che meno Così come anche Ha spiegato il signor Ping Gates Che in Cina Era saluto vicino a me E che tutto il tempo Ha tenuto sul bracciolo Fra di noi Un barattolo pieno di merda Vabbè l'abbiamo vista Io devo dire L'abbiamo visto Io devo dire Prima di tutto Sì prima di tutto Basta questo prima di tutto Io mi sono sentito In imbarazzo Sì Ebbene Perché mi ero presentato A mani vuote No 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 ma no No si fermi La prego no Non vada oltre Andrea Zalone No